La squadra di calcio femminile della Dolomiti Bellunesi conquista, battendo la Virtus Padova, capolista nel girone di campionato, la finale di Coppa Italia, che si giocherà in campo neutro il 2 aprile contro le Veronesi del Real San Massimo. Dopo un primo tempo equilibrato e terminato con il risultato di 1-1 con il gol di De Zold e Maschio, le ragazze guidate da Mr. Pellicanò hanno cambiato passo e realizzato quattro reti. Al sessantesimo è il capitano Sommariva a portare in vantaggio le Bellunesi con una grande punizione. Seguono i gol di De Zold, per lei una tripletta, e di Mastel. Una finale dal sapore indescrivibile, sottolinea nel post-gara la capitana e bandiera Sandra Sommariva. Ad agosto sembravano non esserci presupposti per fare una buona stagione, invece partita dopo partita ci siamo compattate come gruppo. Oggi eravamo molto ben messe in campo. Ora in finale ce la giochiamo, comunque vada, per noi sarà un successo, conclude Sommariva. Sulla stessa linea d'onda anche l'allenatore Francesco Pellicanò. Siamo partiti ad agosto con appena 7-8 ragazze. Anch'io ero alla prima esperienza nel calcio femminile. Dopo le prime difficoltà avevo capito però il potenziale di queste atlete. Hanno doti che spesso i maschi non hanno. Hanno una voglia smisurata, grande serietà in allenamento e voglia di migliorarsi. Sì, fare cinque reti alla prima della classe non è semplice, conclude Pellicanò. La nostra emittente a fine anno aveva documentato e realizzato una serie televisiva chiamata Football Life, sognando la Serie A, con protagonista la squadra femminile degli addormiti bellunesi. In quel periodo della stagione, dopo alcune sconfitte, le ragazze stavano proprio ritrovando il gioco e le vittorie. Cosa ci manca? Il calcio è una continua lotta su 90-95 minuti. Domenica andiamo a fare una bella figura e a venire a casa felici e contenti. Avete le qualità e avete le qualità ragazzi. A presto!